Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, oggi siamo qui per fare un video, uno dei video miei preferiti sinceramente e credo che anche a voi piaccia particolarmente questa tipologia di video sono un po' imbarazzata, è un po' che non ci registro, mi sento un po' fuori dal mondo ma vabbè, tanto lo sapete mi passa subito mi vedete con questi super capelli bagnati perché mi sono fatta la doccia e ho detto, visto il tema del video, perché non farlo direttamente con capelli bagnati? tanto lo sapete, io sto lasciando i miei capelli tornare come prima, quindi boccolosi, perciò non li asciugo mai comunque il tema di oggi saranno i costumi di Purple Shea è un brand di costumi che mi ha contattato e mi ha fatto scegliere tre pezzi io sono, devo dire, molto molto contenta, i costumi li proverò adesso con voi però li ho tolti dal sacchetto, li ho lavati, quindi li ho già toccati devo dire che sono rimasta veramente, come posso dire, felice della tipologia di stoffa comunque della fattura di questi costumi perché sono veramente fatti bene, sono molto molto contenta allora, il primo costume è di questo colorino porpora, se si può dire e la cosa bella è che sono veramente fatti bene, i costumi, i sacchettini sono bellissimi sopra c'è scritto, hello sunshine, you have been expecting me cioè, ciao raggio di sole, tu mi stavi aspettando comunque, ogni bustina contiene un pezzo quindi vi arriveranno due bustine separate da sopra e sotto questa è la parte di sotto questa è la parte di sopra volevo farvi vedere la particolarità del dietro del costume che secondo me è molto molto bella comunque adesso vado a provare e ci vediamo tra poco ok, questo è il primo costume e devo dire che mi piace particolarmente lo sapete che questo colore di costume è uno dei miei preferiti in assoluto devo dire che mi sta anche particolarmente bene sono molto contenta della, come si dice, di come lo calzo ho preso tutti una S perché io gli mando le mie misure e loro appunto mi hanno consigliato una S devo dire che è perfetta la taglia adesso non contiamo il fatto che comunque siamo a casa da due mesi cose però devo dire che mi sta molto molto bene leggermente sgambato, non so se riuscite a vedere mi piace veramente veramente tanto voi fatemi sapere come sempre cosa ne pensate poi qua vabbè ve lo potete regolare lo sapete che a me piace che arrivi al cielo ed ecco qui il primo il secondo costume che vi faccio vedere è bianco e il pezzo di sopra è fatto così così, più a fascia, senza imbottitura mentre questo un minimo ce l'ha quindi è fatto così che in realtà si può usare anche come top secondo me questo e il pezzo di sotto è fatto così molto molto alto devo dire è fatto tutto questo qui è come posso dire non so mai dirvelo tipo zigrinato comunque adesso come sempre vado a provare e vediamo allora questo è il secondo costume devo dire che questo è davvero davvero alto però mi piace un sacco tanto lo sapete per me non è un problema mi piace molto come veste anche sopra io che non lo sei non mi fa e devo dire che è molto molto bello e niente devo dire che mi piace veramente tanto questa cata etichetta vabbè molto molto bello secondo me fatemi sapere bello poi non so io mi trovo benissimo con questi fatti così a molti di voi ho visto che non piacevano particolarmente io invece li amo che vi devo dire l'ultimo costume non per importanza è questo di questo colore che non so dire che colore sia perché l'altra volta che vi ho detto color sabbia mi avete tipo insultato no sena vi ho detto forse la trovo comunque questo è fatto sotto così forse questo è il meno sgambato di tutti così con i laccettini qua e l'altro è fatto così è fatto così davanti e dietro si e dietro si come posso dire si in treccia molto molto bello andiamo a vedere allora questo è il meno appunto come abbiamo detto il meno alto il meno sgambato chiamatelo come volete e in telecamera sembra più un colore tipo oliva ma vi assicuro che dal vivo è molto tipo beige sabbiolino non so dirvi comunque è molto molto bello anche questo dietro è così e devo dire che mi piace molto anche questo molto molto bello niente io come sempre rimango molto sconvolta con il misuro voi lo sapete niente bello bene questo video è finito io spero che i costumi vi siano piaciuti io sono rimasta particolarmente felice di questa scoperta di questo nuovo brand perché io non lo conoscevo e devo dire che in realtà merita veramente tanto secondo me comunque sia vi lascio sia qua in sovraimpressione che nell'info box il mio codice sconto con cui avrete il 15% su quello che vi pare ci sono un sacco di costumi anche interi andate a vedere ci sono un sacco un sacco un sacco di cose io spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un bacio super enorme vi voglio bene come sempre raggi di storia lo sapete e mi raccomando continuiamo ad affrontare anche questo periodo brutto con il sorriso ok vi voglio bene ciao